ciao ragazzi e ragazze il campionato è ancora vivo è ancora vivo se l'inter vince il recupero mercoledì mercoledì scusate col bologna balzeranno in testa però il milan il milan ha dimostrato che se gioca sempre con l'intensità del secondo tempo non del primo del secondo tempo ha dimostrato che ancora qualche piccola piccola piccolissima secondo me però c'è qualche speranzucola per lo scudetto c'è ragazzi c'è 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 onestamente la lazio oltre al gol di immobile non ha non ha creato nulla ragazzi nient'altro il milan il milan ha strameritato di vincere questa partita un secondo tempo da grandissima squadra il problema del milan secondo me oltre a non avere dei dei grandissimi attaccanti perché ibra anche se entrato e comunque ancora nel suo piccolo fa la differenza però è avanti con gli anni girù anche se stasera ha segnato fa un gol ogni 20 partite lo stesso leao è molto discontinuo salamelec una pippa messias giocava fino all'anno scorso nel crotone il problema del milan e l'attacco e l'attacco ragazzi manca il calciatore soprattutto quando gioca a ritmi bassi che gli risolve dal nulla la partita e questo il grande difetto del milan perché anche se non gioca ad alti livelli le occasioni da rete le crea le crea sempre ragazzi manca il finalizzatore manca un vlaovic manca un non lo so un zeco il grande attaccante di razza che poteva essere ibra ma figli anche dell'età e soprattutto degli infortuni non è più quello di di 45 anni fa gente però stasera lo si è visto che quando quando è entrato ci ha messo sempre lo zampino ragazzi anche sul gol credo di 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 tonali si ha partecipato anche sul sul gol di tonali e lì marusic e acerbi veramente da 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 interdire ragazzi da inter inter dire inter dire ottimo mila ripeto soprattutto nel secondo tempo teo Hernandez grandissima partita tonali ragazzi io ve lo dicevo che questo ha ottime ottime qualità e soprattutto quest'anno lo le sta le sta dimostrando a pieno ripeto il problema è lì davanti però ripeto se il mila gioca con questa intensità da qua alla fine del campionato qualche speranza c'è piccola ma c'è dovete giocare sempre al cento per cento se volete dare fastidio all'inter dovete giocare al cento per cento Lazio veramente impresentabile impresentabile dimostra la sua poca qualità soprattutto negli scontri diretti perché li ha persi se non tutti quasi ragazzi adesso mi ricordo a memoria ha vinto il derby dell'andata ma si aveva vinto anche con l'inter sempre all'andata ma per il resto ha fatto solo solo delle grandissime figure ragazzi bruttissime figure grandissime bruttissime figure e niente ragazzi niente per quanto riguarda la juventus ottime notizie perché la roma ha perso la fiorentina anche la lazio anche e quindi per noi ragazzi possiamo anche non giocare domani che tanto non cambia una beata una beata ciolla ragazzi pensiamo a concentrarci per questa finale di coppa italia perché partita secca come dico sempre anche se l'inter è molto più forte di noi può succedere di tutto può succedere di tutto ragazzi di tutto di tutto di più di tutto di più di tutto di più grazie a tutti like al video iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche su tutte like al video iscrivetevi anche al gruppo telegram la voce del tifoso qui sotto qui sotto link in descrizione proprio sotto di voi link in descrizione sono carico grazie a tutti e buona 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 notte grazie a tutti